Esli! Es! Es! Non va bene. Non va bene per niente. Non va bene, non va bene, non va bene, non va bene. Non va bene, non va bene. Non va bene, non va bene. Oh, merda. Non va bene, non va bene. Es! 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 Esli! Esli! Es! 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 Non guardare, Ashley. Perché non devo guardare, Chris? Dimmi che sta bene, ti prego. Sto arrivando, Ashley. Adesso ti faccio scendere. Ora basta. Dai, su, dai. Ti faccio scendere. Dobbiamo andare via. No. No. Dobbiamo andare, ok? Sì. Chris! Ashley! Il sangue. Di chi è quel sangue, Ash? Stai bene? Chris, cosa è successo? Josh. Josh cosa, amico? È morto. Aspetta, cosa? Ma di cosa stai parlando? È un pazzo. Un pazzo? Oh mio Dio, dobbiamo andarcene da qui. Non riesco a capire cosa è successo. È un pazzo. C'era una sega. Dovevo scegliere o lui non esce, io non sapevo cosa fare. Dio. Lo ha tagliato a metà, lo ha ridotto a brandelli. Cosa? Oh mio Dio, che risposta. L'ho ucciso. L'ho ucciso. È stata colpa mia. No, no, è una pazzia. Dobbiamo chiedere aiuto. Dai, a tua metà. Vedrai che c'è la cascata. Non lo so, non lo so. Matt, ci serve aiuto ora. Lo so. Lo so. Emme, dovremmo cercare gli altri. Mike e Jess sono a divertirsi mentre Sam chissà dov'è. Credo che sia alla banca. Bene. Sì, hai ragione. Raduniamo tutti quanti, ma se c'è un manioco in circolazione dobbiamo anche chiamare i soccorsi, giusto? Non possiamo solo aspettare. Ma se... Stiamo perdendo tempo a parlare, andiamo! Sì, hai ragione. Sì, hai ragione. Ma ha chiamare i soccorsi, giusto?